Dichiarare lo stato di crisi del settore vitivinicolo dopo i pesanti danni alla produzione provocati dal clima e dalla peronospora della vite. Lo chiedono compatte le organizzazioni del settore, CIA, Confagricoltura e Coldiretti in una nota congiunta. Sono necessari interventi immediati e improcrastinabili da parte della regione molise per mettere a punto strategie di contrasto alla malattia della vite e risarcire le aziende vitivinicole, sottolineano le organizzazioni del settore, che hanno calcolato i danni provocati dal parassita. Si aggirano tra il 70% e il 100%, ci sono vigneti completamente distrutti in alcune zone del Molise. I viticoltori, aggiungono CIA, Coldiretti e Confagricoltura, non hanno potuto effettuare una lotta alla peronospora efficace a causa delle continue piogge di maggio e giugno. È stato dunque impossibile per gli imprenditori agricoli effettuare trattamenti antiparassitari che hanno determinato la diffusione del fungo. Le organizzazioni quindi chiedono di mettere in campo azioni urgenti, come la verifica immediata dei danni da parte delle strutture tecniche regionali, la deroga al divieto di bruciatura dei tralci e dei residui di potatura della vite per contenere l'incremento della peronospora al suolo, il riconoscimento di ristori economici per gli operatori del settore per il mancato reddito.